Ciao Mario, buonasera. Volevo chiederti se sei il miglior assistman dei migliori campionati, dei cinque migliori campionati d'Europa, non solo tu, ma anche Olivera e Di Lorenzo, che abbiamo visto molto spesso anche entrare di più dentro al campo, essere più partecipi alla manovra offensiva. Quanto ti sta agevolando questo lavoro che state facendo quest'anno e qual è il segreto? Secondo te c'è un segreto in questa mossa di spalletti che vi sta dando ancora più spinta in fase offensiva? Il segreto è quello che abbiamo i compagni che fanno i movimenti giusti, si impegnano sempre al massimo e si dimostrano sempre disponibili a fare il sacrificio per tutti i compagni, quello è il segreto. Grazie